Una masterclass dedicata al cinema di Quintin Tarantino, tenuta dal critico Davide Estanzione, che si è tenuta presso la biblioteca del liceo scientifico Enrico Fermi di Sulmona. Si è aperta così la terza giornata del Festival del Cinema Sulmonese, ospiti di questa giornata Antonello Schioppa, dove si vada qui e Danilo Corbellini scarcia 88 per la sezione Spazio Abruzzo. Dopo festival fissato sempre per le 23 all'interno del locale Bionico, con un concerto del cantautore romano De Nero. Il programma prevede oltre i film proiettati nel pomeriggio, alle 21 Spazio Abruzzo fuori concorso 88, by Danilo Corbellini scarcia Italy, e alle 21 e 15 lungometraggio fuori concorso Martin Eden, by Pietro Marcello Italy France. Nella Napoli dei primi anni del XX secolo, il giovane marinaio Martin Eden, proletario individualista in un'epoca squarciata dalla nascita di movimenti politici di massa, sogna di diventare uno scrittore e conquista l'amore di una giovane borghese, grazie al suo bagaglio culturale da autodidatta, ma sente che sta tradendo le proprie origini.